Adesso è andato agli Irpini. A Igranata resta solamente la beffa di due gol validi annullati dalla terna arbitrale. Sentiamo Luca Montanari. Non ne va bene una quest'anno alla Reggiana. Senza cinque titolari e con tre titolari, in panchina al partegno di Avellino, Igranata tengono in scacco per gran parte della partita i lupi Irpini. Ma i due errori della terna arbitrale sui gol annullati a Gurma per fuorigiocchi inesistenti pesano come macigni sul risultato finale. L'Avellino e la reggiana non resta che la rabbia per un pareggio strameritato sfuggito più percorrere. I bianco-verdi di casa segnano una rete per tempo. Al trentunesimo della prima frazione De Angelis vince il duello aereo con Aia e insacca la sfera alle spalle di Silvestri. Nella ripresa, proprio al novantesimo, raddoppia e chiude il discorso Malaccari. Prima del vantaggio Irpino, alla reggiana era stata annullata la prima delle due reti, assolutamente valide, timbrate da Mario Gurma. Pochi istanti prima del raddoppio dei lupi, la situazione si ripete, questa volta con un errore ancora più grossolano da parte del guardialine. In sintesi, una vera e propria beffa per una reggiana che, proprio come accaduta a Foggia, con la rosa ridotta all'osso, trova stimoli ed energie impensabili. Peccato non riesca a fare altrettanto quando in campo c'è la formazione titolare.